... Danzando sulle note di Break the Chain e Spezza la Catena, si sono riunite in piazza, anche a Potenza, tantissime donne che hanno aderito all'iniziativa internazionale One Billion Raisin, un miliardo insorge, nel capologo di regione sostenuta dalla Commissione regionale Pari Opportunità e dal telefono Donna. La slogan della giornata infatti è stato Un miliardo di donne che subiscono violenza sono un'atrocità, un miliardo di donne che danzano una rivoluzione. A richiamo del flash mob hanno risposto in tante, con la convinzione e la determinazione che è giunto il momento di dire no alla violenza contro le donne. Questa volta è stata la danza lo strumento per cercare di diffondere il messaggio che sta alla base dell'iniziativa. One Billion Raisin infatti vuole essere uno sciopero globale, un appello alle donne e agli uomini per respingere la sottocultura dello stupro, un atto di solidarietà, un rifiuto ad accettare la violenza contro le donne e le ragazze come qualcosa di predestinato. Grazie. 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 Grazie.